FIGURE2YOU Ospite di oggi, vice campioni europei nelle coppie d'artistico, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, appartenenti al gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre. E allora vado subito a chiamarli perché dovrebbero già essere collegati con noi. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao Franci. Ciao Franci. Prima di tutto, complimenti. Grazie mille. Come state? Bene. Siamo tornati alla normalità. Ecco, ieri, Rebecca, tu sei stata insieme a Sara Conti e Niccolò Macì in Piazza Duomo a Milano per l'alza bandiera delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Che emozione è stata? Che cosa hai provato ad essere lì? È stata una cosa particolare perché comunque queste Olimpiadi sembrano sempre lontane. Poi noi ci sentiamo ancora nel cuore come fosse ieri le Olimpiadi di Pechino e sicuramente è stato un po' il sogno che si concretizza. È stato bello vedere così tanta gente a sostenere questa cerimonia e assolutamente è stato bellissimo. Ma adesso parliamo degli europei. Che settimana è stata ragazzi? Ma è una settimana impegnativa, è stata bella tosta. Sicuramente ci portiamo dentro tanto nel nostro cuore dopo questa settimana appena trascorsa. Rebecca? Assolutamente sì, è stata tosta, però diciamo che ci ha regalato davvero tantissime emozioni belle e brutte. Le abbiamo prese tutte e penso che di questo europeo non cambieremo niente perché ce lo siamo goduti al massimo. Comunque il risultato non è mai scontato, quindi torniamo a casa veramente contenti. Quindi dopo il programma corto in cui avete commesso qualche errore e poi la grande rimonta nel libero dove avete pattinato il miglior programma lungo ottenendo anche il vostro season best con 127,48. È stata una rimonta pazzesca? Sì, è stata una grandissima rimonta e come dice Rebecca, come ha detto prima, non cambieremo proprio nulla perché nella vita è fatta anche di errori, di up and down, è un po' una montagna russa. E questo è un po' quello che rispecchia anche il nostro sport. Molte volte sì, allora noi cerchiamo la perfezione, questo è vero, però molte volte appunto non sempre va come si vuole o come dovrebbe. E quindi anche dopo comunque una caduta nel programma corto diciamo che ci siamo rialzati, abbiamo dato grande prova di carattere a noi stessi e anche alla gente che ci segue. E questo ne possiamo essere molto orgogliosi, ecco, questo sì. È stata una grandissima rimonta perché ci siamo proprio detti fin dall'inizio, ok, adesso dobbiamo dare tutti noi stessi, dobbiamo far vedere cosa siamo in grado di fare, quanto valiamo e quindi abbiamo dato tutto e ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti. Sì, noi abbiamo avuto con il programma libero un'altra occasione e ce la siamo giocata al meglio, non avevamo nulla da perdere, è stato difficile perché scendere in pista un po' con il rammarico del giorno prima, con quella tristezza che avevamo, ma insieme l'abbiamo proprio presa, messa da parte e abbiamo fatto vedere come ha detto Filo quello che valiamo e non potevamo chiedere il risultato migliore. Poi gara e gara tutto può succedere e penso che è l'esempio paese, è questo europeo per noi proprio da un giorno all'altro che le cose non è mai finita, finché appunto non si fa anche la seconda parte di gara e poi si ha la classifica totale. Esatto, esatto. La vita, così come lo sport, è fatta di alti e di bassi. Molte volte i bassi servono appunto per imparare e per poi aiutarci a tirare fuori il meglio di noi stessi, no? Cioè io sono dell'idea che dalle sconfitte si impari di più che dalle sconfitte. Sì, assolutamente. Assolutamente, Franci. Non si può essere sempre sulla cresta dell'onda. Sì, è proprio lo sport che insegna questo. È un po' uno stile di vita che ci insegna anche all'esterno delle nostre mura ghiacciate a farci vedere che la vita non è sempre come vogliamo e non è sempre fatta di app e di cose belle, ma ci sono momenti bui, momenti difficili, momenti di rammarico, dove però ci siamo presi per mano io e Rebecca e abbiamo detto ok, adesso ci facciamo forza ed affrontiamo anche il giorno dopo perché così non si può sfuggire. Le paure vanno affrontate, ed è quello che abbiamo fatto. Sì, sono completamente d'accordo. Che poi, come si dice, lo sport è palestra di vita, quindi sono tutte cose che poi un giorno serviranno. Esatto, perché tante volte vediamo degli ostacoli davvero grandi davanti a noi, ma dobbiamo pensare che al di fuori di queste mura ghiacciate gli ostacoli ce ne sono tanti altri e sono ancora più grandi. Esatto, sono d'accordo. Il lavoro poi ripaga sempre, voi siete dei grandi lavoratori e siete un esempio di costanza e determinazione. Che cosa avete provato a salire sul secondo gradino del podio in questo rassegno continentale? No, eravamo contenti, eravamo contenti perché, come ti avevo detto anche prima, non c'è nulla di scontato soprattutto nel nostro sport e salire su quel podio è stata un po' proprio una rivincita personale per noi stessi e per quello che sapevamo fare. Cioè, ce lo siamo goduto tutto quel podio lì. Sì, sì, devo dare ragione a Rebecca. E una volta rientrati a casa, come siete stati accolti? Avete festeggiato? Avete avuto del tempo anche un po' per riposare? Ma siamo stati accolti dalla, non è più la nostra società, ma che portiamo nel cuore Ice Lab e siamo stati accolti davvero con grande festa da Federica Pesenti, che è la presidente della pista di Ice Lab e abbiamo festeggiato appunto appena rientrati ed è stato molto bello, è stato molto bello e con i nostri insegnanti e tutti gli affetti più cari. Poi dopo quel giorno ci siamo presi adesso fino ad oggi un po' di giorni di pausa per stare con le nostre famiglie. Di pausa, sì, esatto, questa parola non si sente spesso, però ecco appunto per stare un po' con le nostre famiglie e le persone a noi care perché appunto la preparazione pre-europea è stata comunque impegnativa e non ci ha dato modo appunto di prenderci dei giorni di pausa. Sì, diciamo che è da un po' che questa parola ci manca. Guardando anche solo l'anno scorso, già la scorsa stagione, per le Olimpiadi, questa stagione perché si volevano prendere certe soddisfazioni e adesso abbiamo proprio avuto l'occasione per fermarci, fare un respiro, tirare un attimo il fiato e festeggiare anche con tutti i nostri compagni di allenamento, con Federica che è stata gentilissima con questo bentornati fantastico, ho avuto l'accoglienza del mio paese con la mia sindaca che è sempre super gentile, quindi tutti hanno fatto la loro parte. E adesso immagino che è tornata ad allenarvi e poi quale sarà la prossima gara in programma? Al momento non abbiamo gara in programma e sicuramente torneremo a riprendere un po' la sensazione del ghiaccio sotto i piedi. E su cosa sentite di dover migliorare ancora? Cioè dopo questo europeo che cosa avete capito? C'è qualcosa su cui vi sentite ancora un po' più, magari un po' più debolucci? Sì, sicuramente è un po' la strada su cui stiamo lavorando, la direzione in cui già dalla stagione scorsa così tipo sul twist abbiamo sempre lavorato tanto, anche dei risultati li abbiamo notati. Banalmente di quel corto ai europei la cosa più bella è stata finalmente vedere quel twist con il livello 4, con i più, cosa che abbiamo detto è andato tutto un po' così, ma quella era una soddisfazione che non ci siamo mai presi e tutto il lavoro che c'è dietro a quell'elemento l'abbiamo proprio visto su quel pdf e nonostante la giornata eravamo comunque felici di quella cosa in particolare. E poi i salti in parallelo e la qualità anche sui lanciati, sui sollevamenti, noi non finiamo mai di lavorare in realtà su niente, il lavoro non è mai finito. E Filo, sino ad oggi che voto dareste a questa vostra stagione? Oltre al brillante risultato degli europei ricordiamo anche un ottimo quarto e poi un primo posto in Coppa del Mondo che vi hanno permesso poi l'accesso alla finale di Torino. Ma dai, io sono sempre molto critico, diciamo un sette e mezzo, otto. E tu Rebecca? Eh, io ho predato otto e quindi eravamo lì, allineati. E vi faccio un'ultima domanda prima di salutarvi. C'è qualcuno che vorreste ringraziare per essere arrivati sino a qui? Sicuramente sono tante le persone, Franci, che dobbiamo ringraziare e che dobbiamo il nostro percorso perché appunto è da sei anni che fattiviamo assieme io e Rebecca, questo era il settimo, se non sbaglio. E prima ad allora ognuno aveva fatto un proprio percorso, quindi nelle nostre vite ci sono tante le persone che hanno fatto parte di noi. Quindi ovviamente adesso è difficile ringraziare tutti. Però sicuramente è sempre stata Ice Lab che ci ha sempre dato l'opportunità a una grande società che ci è sempre stata dietro e ci ha supportato a tutto questo. Le nostre famiglie, perché comunque hanno sempre contribuito nell'aiutarci, nell'affrontare sempre tutte le sfide che sono arrivate. I nostri ragazzi, i nostri fidanzati che sicuramente fanno parte ormai della nostra vita e del nostro stile di vita. Molto, molto pazzo. Un psicologo molto prezioso. Sì, sì, perché ovviamente la vita di uno sportivo è sempre difficile, la valigia è sempre lì pronta, si parte, si va, dopo molte volte le date non sono quelle, si ricambia e così. Sì, quindi devono essere sempre al passo nostro. E quindi, no, no, davvero, davvero a tante persone dobbiamo dire grazie a questo. Alla nostra allenatrice Franca Bianconi, che è una grande tecnica e sempre fin dall'inizio ha creduto in noi, in me e Rebecca, nella nostra coppia, nell'essere assieme. e a tutto il team di Franca. Ecco, ho detto tutto. Non so, Rebbe. Come ha detto Fili, grazie da dire, sono tanti, forse troppi. Io dico quando sai di aver fatto parte, anche solamente poco, ma di averci messo del tuo, quando poi senti quel grazie, sai, lo sai che è un po' il tuo, senza aver bisogno che la persona te lo dica direttamente. Quando noi diciamo grazie, può sembrare un grazie fin troppo generico e davvero per tutti, ma in realtà, secondo me, le persone sanno che è indirizzato a loro. Io spero che tutte le persone che ci sono state accanto da coppia e da singoli, che ci sono stati e che c'è ancora, che poi le grazie per tutti, per le nostre famiglie, per il nostro gruppo sportivo, che è la nostra nuova famiglia, le Fiamme Azzurre. Quindi è un grazie che racchiude tantissime persone. Una lista infinita. Allora ragazzi, io vi ringrazio per essere stati i nostri ospiti oggi. Grazie a te, Franci. Mi faccio l'in bocca al lupo per questo finale di stagione, poi noi sicuramente ci risentiamo e ci vediamo. Un bacione, grazie mille. Grazie Rebecca e Filippo per essere stati i nostri ospiti oggi, grazie come sempre anche a Stefano in regia e vi ricordo che Figure2You torna come sempre martedì prossimo alle 20.20 con una nuova puntata. Grazie per averci seguito ed una buona serata. Ciao ragazzi, grazie. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti.